La grandezza di Maria sta nell'umiltà di suo figlio Gesù. Tocca un aspetto centrale della fede, il Vescovo, in occasione dello scioglimento del voto al santuario di Montallegro. Gesù, spiega, è stato un uomo come noi, di cui nasce la devozione alla Vergine. E noi ci sentiamo da lei protetti, guidati, sostenuti. Sappiamo di essere alla sua attenzione materna. Ecco dunque l'invito, fatto più volte in questi giorni di festa, a vivere la fede nella luce di Dio tutti i giorni, nella quotidianità. Perché anche per noi può succedere che la quotidianità con i suoi eventi diventi per noi quasi un ostacolo a un'autentica vita di fede. Noi rinnoviamo oggi non soltanto l'adempimento di un voto, ma siamo chiamati a rinnovare la nostra fede vissuta. L'agente di Rapallo ha partecipato numerosa per un momento che si ripete da 361 anni. È una faccenda di casa, detto il Rettore, Don Gianluca ha trovato tutta la città, sente Maria come madre. Oggi, peraltro, il Comune vuole attuare un percorso di valorizzazione di Montallegro. Abbiamo preso dei professionisti che si occupano di comunicazione e stiamo tentando di trasportare questo meraviglioso spettacolo dal punto di vista sia di immagine che naturalmente di contenuti del nostro santuario nei confronti di tutta Italia, quindi fare una campagna nazionale. Al termine della messa, dal piazzale del santuario, è stata benedetta la città con il quadretto della Vergine. Infine le firme, non solo delle autorità civili ed ecclesiastiche, ma di tutto il popolo, compresi i sestieri. Cerchiamo di tramandare i giovani, ci sono tanti bambini. Certo che sarebbe bello come una volta si usava, specialmente per i mortareti, queste cose qui. Però adesso ci sono delle restrizioni anche a livello di polizia, quindi dobbiamo farli prendere i patentini, quindi devono arrivare all'età maggiore, quindi è sempre più difficile. Però speriamo che abbiano la pazienza di aspettare di avere 18 anni.